Promozione della salute, prevenzione, diagnosi precoce, informazione e sensibilizzazione, le parole chiave della giornata mondiale del diabete che si celebrerà anche a Caltanissetta domenica 12 novembre. Una manifestazione organizzata dall'Unità Operativa Dipartimentale di Diabetologia e Obesità in Età Evolutiva e dal Dipartimento di Prevenzione Sian dell'ASP di Caltanissetta, in collaborazione con il Comune. L'Associazione Giovani Diabetici del Centro Sicilia e Lions Club è il Comitato della Croce Rossa Italiana che coinvolgerà il Centro Storico con tre postazioni, Piazza Garibaldi, Zona Angeli e Piazza Mercato Grazia. Credo che si possano coniugare i due temi, il benessere e la bellezza. Il benessere perché per noi la terapia e la prevenzione, soprattutto del diabete, sono un'unica strada che conduce al benessere. Infatti la passeggiata che faremo in Centro Storico è un inno al benessere. Inoltre è importante che ci sia stato il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tante forze della nostra città, sia istituzionali che anche privati, perché tutti dobbiamo sentire, a partire dal diabete e in particolare dai bambini con diabete, questo impulso al benessere. Non è complicato seguire la patologia se in un contesto di benessere tutti collaborano. Sì, ancora una volta io ho apprezzato l'impegno del Lions nel utilizzare il Centro Storico come luogo dell'incontro e luogo di vita. Questa volta per parlare della prevenzione del diabete, un problema molto attuale, ma soprattutto che sempre di più riguarda le fasce giovani della popolazione. Un'alimentazione non sempre adeguata, poco rispetto per il controllo e per i controlli periodici che ogni persona deve fare, spesso porta poi ad avere problematiche di questo tipo. L'amministrazione comunale insieme alle altri enti che hanno voluto aderire a questa iniziativa chiaramente saranno presenti e ancora una volta il Centro Storico diventa luogo di proposizione, di proposta, un luogo da cui si irradia cultura. Istituita nel 1991 la giornata mondiale del diabete, quest'anno è dedicata a gentil sesso. In Italia sono due milioni le donne che convivono con la patologia su un totale di tre milioni e mezzo di diabetici. A questi numeri si aggiungono un milione e mezzo di persone malate che non sanno di avere il diabete ed altri tre milioni e mezzo che presentano una condizione di pre-diabete. Noi siamo promotori di questa bellissima iniziativa anche perché tra i temi, tra i service nazionali che l'AIDS si propone, in ambito di prevenzione il diabete è una patologia di primissimo piano, per cui noi siamo ben lieti di essere partner in questo grosso progetto, che speriamo coinvolga un gran numero di persone per questa passeggiata tra il centro urbano e il nostro centro storico, un'ulteriore possibilità di valorizzazione e nello stesso tempo affiancare anche un discorso salute, un discorso prevenzione. Tutti sono invitati a partecipare proprio per questa bella manifestazione che sicuramente avrà un seguito anche negli altri anni. Grazie a tutti.